Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video Io sono Alessandro e oggi voglio provare due maschere voglio provare queste due maschere che sono l'argilla, una verde e una grigia Provo queste due maschere Quindi direi perfetto Iniziamo con la prima voglio provare con la grigia Che schifo, guardate Oh mio dio Cacchio, è mollissima Me la metterò qua nel pennello Ok, proviamolo subito Cacchio, è gelata È un odore strano Oddio, stranissimo Sembra che mi sto spalmando Della pittura per indiani In faccia La cosa fa letteralmente schifo È freddissima Oddio Oltretutto Queste due maschere sono Quelle che a mia sorella E non glielo ho rubate No, non glielo ho rubate Le ho semplicemente prese in prestito No, non glielo ho rubate No, comunque so che queste maschere Le posso usare Cioè, le posso usare Perché Non è che sono tanto di marca Sono quelle della sefra Oh, che bello Sembra Strano, boh Come che mi sia immerso In un mare di smog Vediamola qua Poca, raga Che poi non devo fare Anche quella Quella verde Cacchio, mi è andata Nei capelli Ma guardate la perfezione In cui mi spalmo Questa cosa Bellix Questa cosa bellix Sono proprio Un pittore Guarda Bene Come potete vedere Ho spalmato Molto omogeneamente La cosa Queste qua Tutto tutto non sono Di quelle maschere Piloff Mi sembra che Si chiamino Quelle che tipo Tiri via Dalla tua stupenda faccia Dopo il risultato Nel senso Vedersi questa roba Come faccia Anche perché poi Questa qua La devo lavare Con l'acqua Quindi Bellissimo Bene Dieci minuti Oddio Dieci minuti Con sta roba In faccia Bene Raga Facciamo uno stacco Facciamo così Ok Ok Devo dire Che Sono stato Un po' Qua A fare lo stacco Ho levato il video Ne sto facendo Un'altra registrazione Si è seccata E quindi Ora Andrò a lavarmi Andrò a lavarmi Poi ritorno Ok ragazzi Allora Mi sono andata A sciacquare E devo dire Che L'effetto Un po' Strano Cioè Mi sento Molto liscio E tipo La mia faccia Ha lo stesso Dere della maschera E quindi Suppongo che Questa grandissima Cagata Sa lo stesso Però la cosa che cambia È che questa È verde Sicuramente No Cioè Non è neanche verde C'è Green mask Guardate il colore È grigio Per questa È di un verde Molto chiaro Possiamo dire Quindi Vabbè ci spolveremo Anche questa Cagata Per il popolo Quindi vabbè Ci metteremo Anche questa In faccia È bianca Ma io non capisco Perché è bianca Adesso mi sono sicura Che mi faccia bene Mentre si 75 maschere Beh Allora Questa qua Me la metterò Sulle guance E sul maso E basta Mi ci vedo Molto io Che provo Le maschere Tutti i tipi Di maschere E anche Mi sono bello Sì C'è tutto Tipo il pennello Che fa Tutto quel rumorino Ma è una Siamo un po' Tipo Quando Lo si su Ciao ragazzi Anzi Preghiamo un make up Per it Sì C'è quelle cose It Che le passano Bello Sembra un cervo Sembra un attivo americano E ci vediamo Dopo lo stacco Pubblicitario Mi prudeva qua Infatti Mi sono strusciato E infatti c'è C'è la cosa qua Quindi ora direi Che Questa Si secca subito Non so A me mi ha seccato Subito Però C'è appena La metto a contatto Con l'acqua C'è È proprio Liquida Sembra Pittura Non so come dirvi Tipo acquarello Uguale Comunque Grey mask Mi fa proprio cacare A parte che non è dello stesso colore Quindi schifo Ok ragazzi Mi sono lavato di nuovo Qua Soprattutto Forse perché C'è Ho messo un altro strato di questo C'è Io non so che cosa cambia Ah Questo serve per purificare E questo Per i pori Questo è un Purificante Per i pori E questo è Un skin Mattefing Boh non lo so So solo che È una grandissima cagata Quindi se Vi ritrovate da Saifora Con queste maschere qua Non prendetele Ehm Ho tentato Mi è andata pure in bocca E sa di una cosa Che È chimica E che Non dovrebbe essere andata in bocca Quindi Questo video finisce qua Ci vediamo Al mio prossimo video Seguitemi su Instagram Facebook Snapchat Lo avete tutti in infobox Come sempre E leggete sempre La descrizione Infobox Perché a volte scrivo cose importanti E Niente Ci vediamo Al mio prossimo video Ciao Ciao